Probabilmente il sistema era collaudato poiché andava avanti da tempo ed i titolari del negozio di generi alimentari si erano accorti più volte di ammanchi di merce. Alla fine oramai stanchi di subire si sono rivolti ai carabinieri dell'alliquota operativa della compagnia di Portoferraio, i quali, organizzando dei servizi mirati a riscontrare la veridicità di quanto segnalato, hanno effettivamente colto con le mani nel sacco due donne addette alle pulizie del medesimo locale, mentre uscivano dopo aver effettuato i previsti lavori, con un sacchetto pieno di generi vittuari chiaramente non pagati. Sorprese dai militari, le due donne hanno tentato di giustificarsi dapprima negando ogni addebito, seppure evidente, successivamente scaricandosi a vicenda le responsabilità. Adesso le due donne dovranno affrontare un processo presso il Tribunale di Livorno per concorso in furto aggravato. La merce recuperata è stata contenuta testualmente restituita ai legittimi proprietari, i quali hanno immediatamente interrotto qualsiasi forma di rapporto lavorativo con la ditta che si occupava delle pulizie dei locali e che aveva assunto le dipendenti infedeli.